Musica Questa sera siamo qui per la presentazione del libro di Angelo Castelli dentro la scuderia Siamo riuniti tre club calabresi Ferrari Club, Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro L'abbiamo fatto sotto l'unica insegna come scuderia Ferrari Club Calabria Autorizzati sempre da Ferrari Siamo qua a Tropea, una bellissima accoglienza Siamo venuti con un po' di macchine Una bella manifestazione comunque molto interessante Passo la parola ai miei colleghi Grazie Presidente Tiriolo Il libro presentato è un libro molto interessante Si riferisce all'evoluzione dell'edilizia e della tecnologia all'interno della Ferrari Come fabbrica intesa E abbiamo visto che uno dei punti di forza della Ferrari È quello di avere tutto in casa Cioè dalla concezione alla progettazione alla realizzazione Sia dei professionisti che della manovalanza Noi diciamo che più che delle macchine commerciali ci interessiamo della Formula 1 Cioè del reparto corsa della Ferrari perché siamo appassionati della Formula 1 Siamo venuti stasera a rappresentare i club ufficiali della Calabria come scuderia Ferrari Speriamo che questa pandemia finisca prima possibile Per poter dare sfogo alla nostra passione Con i raduni, con le manifestazioni in giro per la Calabria E non solo perché lo sport è aggregazione Lo sport, come diceva Enzo Ferrari La passione non si descrive ma si deve solo vivere E noi la viviamo, nel nostro piccolo la viviamo Ovviamente è un pensiero a chi purtroppo non può vivere Non nella passione ma alla vita Perché in questo periodo purtroppo viviamo una situazione complessa E quindi un pensiero a loro E un augurio di buon Natale a tutti i tifosi della Ferrari Passo adesso la parola al delegato del presidente del club Reggio Calabria Scuderia Ferrari Buonasera a tutti Hanno già detto tutti i nostri presidenti di Catanzaro e Cosenza Allora, cosa dire, una cornice veramente bellissima questa sera La città di Tropea ci ha accolto veramente a braccia aperte Il libro presenziato è un libro molto descritto dall'ingegnere Castelli Ci ha raccontato la storia artigianale della Scuderia Ferrari E la modernizzazione della grande Scuderia Nell'ambito stradale ma nell'ambito anche delle corse Come altro non aggiungo più niente Ringrazio la popolazione, ringrazio tutti gli addetti al servizio E grazie, grazie, grazie A Tropea, buone feste a tutti E seguiteci, seguiteci in giro per la Calabria Un saluto a tutti A Tropea, buone feste a tutti